D'accordo, eccoci al tanto atteso e agognato video dei favoriti del mese di novembre per quanto riguarda i prodotti da trucco. Favorito, agognato, atteso, tanto atteso addirittura soltanto praticamente da me, perché come ricordo, non tutti i mesi ma quasi, il video dei favoriti del mese per quanto riguarda i prodotti da trucco è la tipologia di video guardata meno sul mio canale, probabilmente perché le donne sono troppo insicure per affidarsi a prodotti ecobio per il trucco e preferiscono affidarsi a prodotti tradizionali da profumeria, velenosissimi, inquiniantissimi, e quindi non hanno nessun interesse a guardare i video del mio canale, perché sul mio canale ci sono prevalentemente prodotti ecobio o comunque con inci interamente naturali e per questo non performanti per il trucco. Allora, però a me questa tipologia di video piace molto, quindi continuo a farla da anni, tutti i mesi insieme all'altro video dei prodotti cosmetici. Allora, questo mese ci sono dei prodotti per la base, però anche dei prodotti per gli occhi, per il trucco degli occhi e quindi comincio subito. Comincio subito con un prodotto che non è un favorito del mese semplicemente perché questo mese non l'ho usato a sufficienza per inserirlo tra i favoriti del mese ma è un favorito di tutti i tempi, ossia questo lucida labbra e il rossetto matte di Alverde edizione limitata, dedicata o patrocinata da questa starlet che si chiama Vanessa Mai qui c'è scritto in duetto con Vanessa Mai Io di questa edizione limitata avevo e ho tuttora due di questi bi prodotti duetto, bi prodotti, due prodotti, tutto due, tutto doppio una colorazione color mattone rossiccio e poi questa colorazione spiccatamente rossa Oggi sulle labbra ho il rossetto matte di questa colorazione, di questo tubetto C'è un nome a questo tubetto? Boh, chi lo sa? Non si sa se c'è un nome Boh, ma comunque Per quanto riguarda l'altra colorazione, il rossetto matte è già da molto tempo andato a male ma per quanto riguarda... ed era comunque inutilizzabile un rossetto matte pessimo, assolutamente veramente inutilizzabile mentre invece qui la formulazione del rossetto matte è molto, molto, molto buona e vedete qual è anche la squillantissima colorazione sulle labbra veramente un rossetto molto bello e naturalmente anche molto natalizio poi il gloss non è completamente rosso, non è un gloss rosso ma lo stesso è un gloss molto, molto carino è una specie di rosa aranciato ha comunque ancora molto portabile sulle labbra leggermente ravvivante, veramente un prodotto ben riuscito naturalmente sto parlando di un'edizione limitata di un anno abbondante fa e quindi naturalmente non è più in commercio e ora ecco i veri favoriti del mese di novembre mi devo concentrare sempre per tentare di ricordarmi di che mese sto parlando perché vi sto parlando già da dicembre fra un po' è addirittura natale come testimonia il rosso il poco rosso di cui... di cui mi sto tentando di circondarmi il rossetto e la giacchettina questa giacchettina in realtà è uno scaldaspalle di Promod con un adorabile fiocchetto ed è bellissimo uno di quei capi d'abbigliamento che Promod assolutamente non fa più Promod ha dovuto restringere tantissimo il proprio budget ha dovuto chiudere tantissime filiali in Germania Promod praticamente non esiste più sotto forma di negozio fisico la qualità dei capi d'abbigliamento di Promod è già peggiorata da buoni sei anni diventando un qualcosa di assolutamente intoccabile, inguardabile però adesso che sono diventata veramente molto povera tutte le volte che devo lavare una cosa di Promod e maledico Promod perché quasi tutte le cose che ho di Promod non sono lavabili in lavatrice e allora questo mi ha dato modo di fare delle riflessioni sull'impostazione mentale di chi è ricco senza saperlo di chi pensa di essere normale ma invece molto molto ricco e chi invece è veramente completamente povero e non può permettersi di lavare un capo d'abbigliamento che non può essere lavato in lavatrice perché semplicemente non può permettersi di sprecare quel po' di detersivo che ha a disposizione e che deve usare per il lavaggio necessario di mutande, calze, lenzuola, pigiami insomma di cose, maschere, mascherine coprinaso e bocca cioè ci sono degli evidenti problemi e realizzare tutte queste cose da ex persona benestante diventata adesso che si trova adesso in uno stato di indigenza riflettere su tutte queste cose è una cosa molto interessante è un modo per occupare il tempo da poveri veramente speso bene è un tempo speso bene perché si fanno delle riflessioni che ti rendono migliore e semmai la situazione dovesse migliorare finanziariamente di certo io sarò una persona benestante migliore quando questi tempi da povera saranno finiti semmai finiranno e allora ma comunque continuiamo a parlare anzi cominciamo a parlare dei favoriti del mese due luci da labbra no non cominciamo a parlare dei favoriti del mese perché adesso infatti sto per parlarvi di due luci da labbra che non sono favoriti del mese ma che io comunque nel mese di novembre ho usato tantissimo uno è questo che è uno dei pochi lip gloss che io abbia e che girino da queste parti senza colorazione e quindi utilizzabili da chi porta nel quotidiano una cosiddetta community mask ossia una mascherina in tessuto adesso non vorrei perdermi a parlare delle mascherine in tessuto io normalmente porto comunque due maschere due mascherine sotto porto una mascherina in tessuto perché è a contatto con la mia bocca il tessuto è tessuto Van Laak con svariati filtri sono mascherine lavabili a 60 ma io ho sperimentato anche a 90 gradi sono mascherine che io cambio io tutti i giorni lavo in continuazione e finora hanno resistito bene sono mascherine che io ho da due anni e assolutamente è mio rigidissimo interesse non macchiare queste mascherine con residui di prodotti da trucco ma veramente perché appunto il detersivo è poco costa molti soldi ma poi cioè il tempo è poco per fare il pre lavaggio di mascherine macchiate ma poi il trucco comunque è una contaminazione che poi è una contaminazione che ti finisce anche in faccia mentre tu ancora porti la mascherina cioè veramente non voglio addentrarmi in questo discorso ma il trucco quando si porta una community mask ossia una mascherina una mascherina in tessuto veramente non può esistere e chi lo fa esistere comunque è una persona sporca è una persona che non osserva le più basilari norme igieniche del creato cioè veramente e tu mi vuoi dire ma nel creato ci sono gli animali e le piante non ci sono le mascherine e gli esseri umani tu puoi dire quello che ti pare a me piaceva in questo momento dire del creato e quindi ho detto del creato e andiamo avanti allora questo lucidalabbra è l'unico lucidalabbra trasparente che non fa grossi danni sul tessuto delle mascherine però naturalmente ha un problema e il suo problema è che contiene brillantini azzurrati un altro lucidalabbra trasparente ecobio con inci possibile e con un tubetto igienico ossia con l'applicatore non con il tubetto che si spreme direttamente sul dito direttamente sulle labbra è in questo momento introvabile in Germania ci sono due oli da labbra uno fatto dal verde uno fatto dal terra praticamente con inci quasi identici ma non hanno assolutamente nessuna idratazione anzi volendo disidratano anche screpolano anche le labbra un po' di più rispetto a non portare niente sulle labbra non inturgidiscono otticamente le labbra non hanno grande tenuta sulle labbra cioè non servono a niente questi due oli tutti e due gli oli sia quello di al verde sia quello di al terra li ho provati lungamente fino a finire completamente i rispettivi tubetti ne avete visto traccia nei video dei favoriti di questo canale ma anche in tutti i video in cui mi trucco e sono due prodotti che non intendo ricomprare allora c'è questo questo è un gloss vecchio di al verde l'ho usato in tutto il mese di novembre tant'è vero che ne ho dimezzata la quantità però assolutamente non è un gloss che mi soddisfa perché appunto si brillantini azzurri ma poi pone proprio dei problemi tecnici perché per esempio quando sono per strada e mi rimetto il gloss poi dovrei fare così con il dito per togliere l'eccesso ma ovviamente non esiste che io porti il dito per strada alla bocca sia per questioni di educazione ma soprattutto per questioni igieniche perché mi trovo per strada perché chissà che cosa ho toccato sebbene io mi disinfetti continuamente le mani però quindi devo farlo con un fazzoletto e il fazzoletto poi si sporca di brillantini quando lo faccio con il dito a casa il dito poi si sporca di brillantini che poi ritrovo dappertutto cioè proprio è una cosa impossibile questo lucidalabbra come del resto tutti i lucidalabbra con i brillantini ma perché fate lucidalabbra con i brillantini o meglio ma perché non fate anche dei lucidalabbra senza brillantini e con una tenuta decente ed un inci decente l'altro lucidalabbra che nell'odio per i brillantini ho tentato di usare di consumare è questo questo è un carissimo dolce bello simpatico lucidalabbra viola una colorazione stupenda che però sulle labbra rilascia praticamente pochissimo colore ha questa colorazione tipo nettare di succo di frutta no questa consistenza tipo nettare di succo di frutta è molto è molto avvolgente purtroppo non ripara le labbra perché secondo me tutti i prodotti da labbra che contengono pigmento non hanno la capacità di riparare le labbra perché è proprio un controsenso il pigmento non fa bene alle labbra in due anni di pandemia io ho potuto vedere proprio tangibilmente come le mie labbra siano migliorate e siano rimaste più in salute non portando tutti i giorni prodotti pigmentati prodotti colorati sulle labbra tuttavia comunque non sono naturalmente contro i prodotti colorati e pigmentati vedete che porto lucida labbra porto un rossetto matte colorato in questo momento questo prodotto per labbra questo rossetto matte veramente un fantastico prodotto ma ripeto non tutte le colorazioni avevano questa qualità nel lato del tubetto dedicato al rossetto matte e per tornare invece a questo lucida labbra quindi c'è una buona c'è un buon avvolgimento delle labbra e c'è una buona tenuta ma purtroppo non c'è nessuna azione riparatrice ma non era neanche negli intenti di questo lucida labbra questo anche era un'edizione limitata io ho comprato solo questa colorazione perché viola non vuoi comprare questa colorazione anche questo è stato un lucida labbra usatissimo dentro casa durante il mese di novembre usatissimo dentro casa perché anche se non rilascia colore però comunque è colorato e quindi macchia i tessuti poi altre cose che mi sono piaciute stavolta veramente nel mese di novembre prima di tutto questi due matitoni uno di questi due matitoni c'era già ed è questo un altro di questi matitoni è parte del rimpolpo stagionale dell'espositore di prodotti decorativi permanente di Alverde tutte le ditte interne da drogheria ecobio si trovano in orrende condizioni finanziarie ad un passo dalla bancarotta Terra Naturi che è la marca interna di Müll è la ditta interna ecobio da drogheria che si trova più proprio al capolinea di tutte Alverde Alterra ancora ancora se la cavano però diciamo che tutte queste ditte quest'anno invece di presentare fasti meravigliosi prodotti fantasmagorici al cambio di stagione cioè alla fine dell'estate all'inizio dell'autunno hanno presentato e hanno messo in commercio pochi sparuti prodotti che sono un po' il rimpasto un rimpasto già visto comunque fra i prodotti di Alverde nuovi c'era questo matitone questo è un matitone per fare contour oppure per fare contour per fare contouring in tedesco si dice contour o per fare tutto quello che vi pare si chiama cover stick è contouring 03 è un matitone molto molto piacevole da usare è un matitone anche fatto bene nel senso l'involucro è buono non la mina non traballa dentro qui si gira e la mina esce fuori il tappino è solido e non va in pezzi dopo il primo uso cioè questo è veramente un prodotto buono seriamente il colore è questo colore è un colore molto molto facilmente sfumabile forse l'unica cosa che posso dire su questo colore è che per lo meno per i colori che io ho in faccia va volentieri riapplicato due volte per ottenere un qualcosa di visibile per ottenere una sfumatura scurente su tutta su tutte le parti del viso interessate visibile questo invece io lo uso da correttore e si chiama anche lui cover stick 01 naturelle c'è anche in un'altra colorazione se ben ricordo questo lo vedete su questo canale già da un paio d'anni perché è un prodotto che esiste già appunto da un paio d'anni è un prodotto molto cremoso molto fermo va sfumato molto bene bisogna avere la pazienza e la comprensione adatte a capire questo prodotto e a saperci avere a che fare però ecco una volta capite le caratteristiche di questo prodotto in bene e in male questo è uno stick che mi piace molto soprattutto perché è veramente molto molto ricco per chi ha la palpebra molto oleosa che suda moltissimo che è molto sugosa naturalmente un prodotto di questo genere non va assolutamente bene ma ripeto questo è un prodotto così tanto ricco così tanto cremosamente fermo che cioè è un qualcosa di molto pastoso però a me questa pastosità piace molto rimanendo in tema di matitoni mi è piaciuta molto anche questa matita questa è una matita che si vende tutti gli anni a febbraio da gennaio a febbraio in un espositore particolare dedicato ai bambini perché infatti questa è una matita per dipingere la faccia dei bambini a carnevale questo matitone io ce l'ho da un anno ogni due tre anni ricompro questi matitoni perché poi nel frattempo mi vanno male quindi questo ce l'ho da un anno è ancora perfettamente utilizzabile ha una pigmentazione completamente competitiva che non ha niente da invidiare alle matite da occhi nere è completamente ecobio si sfuma molto bene ma si aderisce ma aderisce ma come parlo ma aderisce molto bene si setta anche molto bene si può usare tranquillamente da base perché non è più di tanto oleoso non è più di tanto grasso certo naturalmente è un matitone quindi la sua mina è fatta anche di grassi di burri e di oli però comunque rimane sufficientemente asciutto soprattutto quando si setta e quando viene settato con una cipria per quanto mi riguarda un prodotto veramente buono che io ho usato volentieri nel mese di novembre su un pennellino molto sottile prelevando il prodotto direttamente con il pennellino dalla punta e poi per scurire l'attaccatura delle ciglia vagamente perché forse ricorderete a me non piace la matitozza nera il trattone di matita nero proprio marciapiedoso sull'attaccatura delle ciglia non mi è mai piaciuto questo mi ha provocato insulti nel corso degli anni di tutti i tipi come se il fatto che siccome a me non piace la matita nera l'attaccatura delle ciglia allora voi non siete autorizzati a mettervela ma chi ve l'ha mai detto fate quello che accidenti vi pare a me lasciatemi però in pace lasciatemi con il mio gusto personale ieri ho guardato un po' di video arretrati di Federico Norsa in cui anche lui se la prende con gli utenti che postano commenti attaccando le sue personalissime opinioni opinioni che non potranno mai essere cambiate mai essere intaccate da commenti disconosciuti ma proprio non esiste comunque andando avanti un'altra matita che mi è piaciuta molto e che ho usato veramente molto tutte le volte che mi sono truccata nel mese di novembre è questa anche questa è una matita di Elverde io nel mese di novembre mi sono truccata prevalentemente con prodotti di Elverde ed è per questo che qui trovate prevalentemente prodotti di Elverde questa è una matita azzurrata si chiama infatti Eye Brightener Crystal Blau colore blu cristallo questa è una matita che mi piace molto perché rischiara tantissimo il ce la posso fare contorno occhi e si sfuma molto molto facilmente fa un po' quello che ha sempre fatto la matita color burro di color burro di Benikos e poi c'è un prodotto per la base anche questo non è assolutamente nuovo su questo canale è di Elverde non è più in produzione si chiama Sunny Beige il mitico veramente mitico Lose Powder Foundation numero 20 Sunny Beige fatto in questa maniera colore identico alla mia carnagione cioè veramente identico mi fa la carnagione un po' meglio di quello che però comunque già è come colore io sono molto contenta del colore della mia carnagione perché è un colore rosa aranciato raramente tende al giallo naturalmente tendo io al giallo come colore di carnagione però avendo ereditato il colore di carnagione di persone pel di carota nella mia carnagione c'è un po' di carnagione mediterranea e però anche un po' di carnagione rosa aranciata e questo fa un insieme che personalmente mi piace veramente molto e allora Sunny Beige è fatto in questa maniera al suo interno ora tento di prendere un po' di prodotto non so se ci riesco ma tento si ci sono riuscite tento di spandere un po' di prodotto a forma di macchiolotta rotondina allora vedete qui qual è il colore di Sunny Beige questo Sunny Beige ha anche una profumazione che ha una profumazione di cipria antica della nonna però è una profumazione molto piacevole perché nella cipria antica della nonna era una profumazione molto più presente mentre invece qui è una profumazione molto delicata sto facendo anche un po' di macchiolina sul fazzolettino per farvi vedere qual è la colorazione anche su un fazzolettino e per finire c'è un prodotto ancora una volta da occhi prima vi ho parlato della matita nera di carnevale il prodotto da occhi questa volta è ancora una volta naturalmente di al verde ma è un ombretto cotto anche questo faceva parte di un'edizione limitata si chiama infatti gebakene litschatten 40 blütenmeer dico infatti perché le edizioni limitate di al verde hanno tutte numerazioni 10, 20, 30, 40, 50 e via dicendo sono numerati per decine allora questo è l'ombretto cotto di al verde anche questo assolutamente non è nuovo su questo canale c'è stata un'estate in cui un'estate o un'autunno in cui io ho usato questo ombretto praticamente come base su tutta la palpebra mobile tutti i giorni bagnato oppure anche asciutto questo è un ombretto che aderisce benissimo sia bagnato sia asciutto ve lo faccio vedere qui è un ombretto rosa uniforma la palpebra bagnato diventa leggermente riflettente ma veramente proprio leggermente asciutto migliora il colore della palpebra e gli dà questa specie di aura mauve che è molto molto bella perlomeno alla vista per quanto mi riguarda quindi è sempre stato un prodotto che mi è sempre piaciuto molto mi dispiacerà moltissimo quando andrà a male avrò comprensione per il fatto che sarà andato a male però apprezzerò anche moltissimo la politica di al verde che fa ombretti fatti di ingredienti di qualità non scadente ma di qualità molto bassa però poi il prezzo è anche basso quindi un prezzo giusto ma soprattutto la tenuta di questi prodotti è una tenuta duratura nel tempo che non ne rende pericoloso l'uso per le consumatrici cioè le consumatrici quando consumano i prodotti di al verde difficilmente si rovinano la salute perché per esempio non capiscono che il prodotto è andato a male perché un prodotto di al verde dura molto nel tempo negli anni e quando non dura molto e va a male subito te ne accorgi perché non scrive più non si muove più oppure perché puzza spaventosamente e non è che puoi stare lì a chiederti ma sarà una puzza o un profumo di naturale perché è proprio oggettivamente una puzza quindi questo lo rispetto molto e mi piace molto di al verde e infine volevo parlarvi di una cipria una cipria che è adatta a fare baking una cipria che ancora una volta faceva parte di un'edizione limitata e che è questa io la chiamo la cipria nel cilindretto questa è una cipria fantastica professionalissima che al verde naturalmente non fa più qui dentro ci sono 6 grammi di prodotto al verde non ha nessuna cognizione voi dovete capire all'al verde come in generale in tutte le ditte tedesche ci sono i capi che sanno che cosa fanno e poi ci sono gli impiegati che generalmente si trovano lì perché questo è il lavoro che hanno trovato ma potrebbero trovarsi anche altrove quindi tu trovi il panettiere che fa il meccanico oppure trovi che ne so trovi il falegname che fa l'insegnante di tedesco cioè e cerca di cavarsela il famoso io speriamo che me la cavo esiste anche in Germania e se lo possono ripetere in testa tutti i tedeschi tutti i giorni quindi all'al verde tu pensi che lavorino esperti di trucco assolutamente no lavorano impiegati che capiscono del trucco quello che riescono a captare durante le ore di lavoro ma poi sono le 5 basta basta fai a Abend bisogna correre bisogna perché in Germania c'è un grande stacco c'è una grande divisione fra il mondo privato la sfera privata della vita quotidiana e la sfera lavorativa quindi quando scatta l'ora in cui gli uffici chiudono lavoro mio non ti conosco più questo vale per i tedeschi per invece gli stranieri non vale perché agli stranieri ho richiesto di rispondere al telefono per esempio anche a mezzanotte di reagire agli sms anche le due di notte di presentare lavori completi in straordinario non pagato a qualunque ora del giorno e della notte quindi agli stranieri per gli stranieri valgono altre regole che non sono scritte da nessuna parte però il tedesco alle 5 di pomeriggio smette di lavorare non vuole sentire più niente quindi all'interno della giornata lavorativa l'impiegato che lavora per la divisione trucco al verde cosa vuoi che capisca di cosa è il trucco veramente soprattutto perché che si tratti di una femmina o di un maschio la gente in Germania non è che si trucca più di tanto ci sono delle ossessionate dal trucco questo sì ma in generale il trucco non è una cosa che va tanto di moda dal centro al nord Europa il trucco è più una cosa che affascina le donne e anche gli uomini perché no dal centro al sud del mondo forse anche perché i tratti somatici si prestano di più al trucco ci sono palpebre più grandi ci sono tagli d'occhi che sono diversi cioè ci sono dei motivi per cui il trucco è un qualcosa di più desiderato e più ammirato e più di moda è sempre in voga di più nel sud del globo che non nel nord comunque chi non riesce a seguire o chi non vuole capire ciò di cui sto parlando chiaramente bollerà tutto quello che sto dicendo in questo momento come al maghessa di io sto parlando però di cose ben precise sono 50 e passani che ci rifletto su queste cose allora tutto questo per dire che questa cipria che è molto adatta al baking si chiama concealer fixing powder concealer fixing powder perché all'alverde sbagliano spesso i nomi e scrivono sui prodotti da trucco nomi veramente campati per aria è fatta così questa cipria è una saliera praticamente è contenuta in una saliera ora prendo un pochino di cipria dalla saliera per farvi vedere come è fatta è una cipria bianca è una cipria molto levigante cioè proprio ha effetto immediato effetto immediato levigante chiaramente se uno ha la pelle molto rugosa e molto anziana mette in evidenza le rughe ed è una cipria altamente screpolante però è anche una cipria molto professionale se uno la sa usare correttamente cioè non quintalate spa 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 magari col pennello proprio spennellate in faccia più non posso ecco così otterrete risultati spaventosamente orrendi però usata correttamente questa cipria è veramente un prodotto professionale che è costato 2 euro e 69 qualcosa di questo genere a suo tempo e che è all'altezza di prodotti di marche molto famose molto professionali che costano settantine ottantine di euro capite? allora questo è un prodotto molto molto buono ripeto al verde non lo fa più questa era un'edizione limitata benissimo il video dei prodotti da trucco preferiti del mese di novembre si conclude qui mi sembra di aver parlato a sufficienza sia degli argomenti a tema con questo video e sia degli argomenti fuori tema che sono sempre i miei preferiti alle superiori avevo una migliore amica anche alle medie solo che alle superiori non eravamo nella stessa scuola mentre alle medie sì e alle medie eravamo dalle suore alle superiori lei era lei faceva ragioneria io facevo il liceo classico il ginnasio e lei mi diceva sempre tu per ottenere buoni voti in italiano non devi andare fuori tema devi scrivere esattamente ciò che ti è richiesto nel titolo del tema e io questa cosa non la capivo e poi devi scrivere tanti aggettivi e tanti vocaboli che fanno capire all'insegnante che tu hai un vocabolario ricco non importa se a te questi aggettivi ti suonano vetusti se fanno ridere i polli non importa tu scrivi quello che sai che l'insegnante s'aspette e avrai buoni voti e una fantastica carriera ma io questa cosa nella vita non l'ho mai capita cioè l'ho capita ma appunto perché l'ho capita l'ho sempre evitata nella vita io ho sempre scritto cose che vanno fuori tema tanto e quanto mi pare ho sempre fatto delle cose che anche quando hanno ben presente l'aspettativa del richiedente del committente del ricevente comunque seguono i miei intenti e la mia forma mentale non quella di chi deve poi eventualmente leggere o avere a che fare con il prodotto che io gli metto in mano no? è per questo anche che nella vita non mi è mai andato bene praticamente niente perché semplicemente io sul palcoscenico di questa vita ci faccio sempre la figura di quella che non puoi usare come se fosse un'estensione come se fosse un paio di guanti capito? tu il paio di guanti lo compri te lo metti e i guanti fanno quello che le dita dicono quello che le dita vogliono fare ecco io non sono un paio di guanti però io faccio quello che mi pare e faccio quello che mi pare con molta ostinazione ma anche silentemente anche silurantemente e quindi è un po' difficile avere a che fare con me perché generalmente la gente che ti vuole ti mette a sedere su un palcoscenico dandoti l'opportunità di svilupparti ed eventualmente di avere un qualche successo sia nel mondo quotidiano sia nel lavoro sia nello spettacolo non è gente che ti vuole fare un favore è gente che vuole fare un favore a se stessa prendendo qualcuno a lavorare che faccia quello che vuole lei non quello che vuoi tu dentro di te questo è un po' il discorso Claudio Cecchetto Linus cioè Claudio Cecchetto aveva una personalità è stato eliminato Linus è stato premiato per per la sua buona capacità di obbedire e poi ha sviluppato anche una personalità gli è stata data l'opportunità di sviluppare una personalità dunque poi alla fine l'ha sviluppata però cioè chi era lì sui nastri di partenza ha vissuto ha visto chi erano le persone e ha visto anche come sono state annientate annichilite ma anche rese ridicole le persone che avevano cervello che avevano inventiva e che avevano possibilità possibilità di viaggiare molto lontano nella modernità nell'attualità nel domani chi chi vedeva il domani è stato proprio spazzato via ammazzate sulla testa chi invece vedeva solo l'orticello è stato premiato e portato avanti con questo questo video è finito e allora io vi lascio dal mio cantuccio e dalla mia personalità e vi saluto e vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao